Una sesta edizione, ogni oltre aspettativa sul campo del Salveti per omaggiare Pietro Mennea e per correre i 200 metri, si sono ritrovati oltre 300 partecipanti, tra atleti, bambini, autorità e disabili. C'erano tutti ed è stata una giornata ricca di emozioni. L'iniziativa, organizzata dal CUS Cassino in collaborazione con l'Istituto Superiore Medaglia d'Oro, ha visto battere nuovi record, ma a vincere è stato soprattutto lo sport. La cosa bella, dice il presidente Carmine Calce, è stata vedere il padre che faceva lo staffetta con il bimbo, i diversamente abili che hanno percorso a loro modo i 200 metri, assessori e autorità in maglietta e pantaloncini. Questo è lo spirito del Mennea Day, ovvero trasmettere i valori dello sport. Una folta delegazione comunale, composta dal sindaco D'Alessandro, dal consigliere delegato allo sport Carmine Di Mambro e dagli assessori Leone e Iannone, è stata presente all'iniziativa anche se non tutti hanno fatto la staffetta. Ad omaggiare il Mennea Day anche il rettore e il direttore generale dell'Unicas, Giovanni Betta e Antonio Capparelli. Presente l'Istituto Superiore Medaglia d'Oro, capeggiato dal preside Bianchi, varie associazioni del territorio e grande attenzione al mondo dei diversamente abili, con l'associazione Camminare Insieme e l'atletica Cassinate, rappresentata dalle associazioni Aprocis e dal Cus Cassino. Presenti anche gli olimpionici Daniele Masala e Lauren Sottoz. Ha dato il via ai 200 metri la medaglia d'oro nel getto del peso dei recenti campionati europei paralimpici Giuseppe Campoccio. Per le donne, a primeggiare Candida Itzi, dell'atletica Venafro, Giuseppe Fantini, dell'atletica latina, è stato il migliore nella classifica maschile. L'imponente e massiccia partecipazione di quest'anno, conclude il presidente del Cus, è la dimostrazione che il Mennea Day sta diventando una tradizione irrinunciabile per la città.